Le vene varicose Rinforzare le vene e combattete le vene varicose naturalmente Le vene sono i condotti interni che trasportano il sangue del nostro corpo e che raccolgono le sostanze di rifiuto che verranno poi filtrate dal fegato. Vene elastiche e forti sono fondamentali per una buona circolazione e per la salute del cuore. Tuttavia, con il passare degli anni, queste tendono ad abilitarsi e ad irrigidirsi, dando vita a diversi problemi di salute. L'invecchiamento è una delle cause dei problemi alle vene. Altri fattori che possono ridurre la qualità della vita sono uno stile di vita sedentari, il consumo eccessivo di grassi, le cattive abitudini come il tabagismo o le carenze di nutrienti. Le vene della parte inferiori del nostro corpo devono svolgere un lavoro più intenso rispetto a quelle di altre aree del corpo. Questo è dovuto all'incidenza della gravità, che rende più facile il passaggio del sangue dai piedi verso il cuore. Le estremità inferiori devono sopportare il peso del corpo, che influisce particolarmente sul flusso del sangue nelle vene. Quando le vene si debilitano e le valvole che controllano la circolazione cedono alla forte pressione, smettono di funzionare correttamente e il sangue non giunge bene fino al cuore. Per questo, le vene della parte inferiore del corpo si infiammano e si formano dei noduli che sono comunemente conosciuti come vene varicose. Le vene varicose sono considerate un problema antiestetico per il loro tono azzurrognolo e per l'infiammazione che producono nelle gambe. Il risultato sono i famosi capillari in vista che si diramano in tutte le gambe e che rendono l'aspetto di queste poco piacevole. Tuttavia, oltre ad essere un problema estetico, si tratta di un problema che colpisce direttamente la salute, poiché i tessuti circostanti sono colpiti dall'accumulo di tossine e questo, a lungo andare, potrebbe causare delle ulcere. Come se non bastasse, le difficoltà circolatorie possono causare problemi seri alla vostra salute cardiovascolare. Esercizi per prevenire e combattere le vene varicose. L'attività fisica è uno dei migliori trattamenti per prevenire e combattere il problema delle vene varicose. Fare esercizi implica il movimento costante del corpo e aiuta a migliorare la circolazione, oltre ad agire in modo efficace per risolvere questo problema. Ecco i migliori esercizi a questo scopo. La ginnastica, il nuoto, la bicicletta, lo spinning, lo yoga, andare a camminare. Per ultimo, mettete le gambe verso l'alto, sollevatele e abbassatele una ventina di volte. Alimentazione. Anche l'alimentazione gioca un ruolo. Il ruolo fondamentale nella salute delle vene, poiché queste hanno bisogno di alcuni nutrienti per fortificarsi e conservare l'elasticità. Bisogna incrementare il consumo di alimenti ricchi di acidi grassi omega 3 come, ad esempio, il pesce azzurro e i semi, di chia, di lina eccetera, bisogna inoltre seguire una dieta a base di frutta e verdura, e includere amminoacidi, come il lievito di birra o di soia. Succo per fortificare le vene e combattere le vene varicose. Questo succo aiuta a rinforzare le vene capillari, oltre a depurare il sangue per eliminare le tossine. Il suo consumo regolare contribuisce a una migliore circolazione sanguigna e riduce l'incidenza delle vene varicose. Ingredienti. 1 gambo di sedano 2 pomodori rossi 1 spicchio d'aglio 1 pezzetto di cipolla 1 bicchiere e mezzo di succo di aloe, 300 ml, 1 cucchiaio di spirulina, 5 g. Mettete tutti gli ingredienti in un frullatore, frullate per qualche minuto e bevete il succo a digiuno. Trattamento da preparare in casa. Questo rimedio è molto facile da preparare ed ha ottimi risultati se assunto regolarmente. Dovete semplicemente comprare una verza e separarne le foglie. Successivamente, appiattite ogni foglia con un matterello e applicatele sulla zona in cui si presentano le vene varicose. Lasciate agire tutta la notte o per un paio d'ore. È molto importante tener conto che il trattamento delle vene varicose non dà risultati immediati e richiede un cambiamento nelle abitudini di vita. Migliorare l'alimentazione, praticare regolarmente attività fisica e tener conto di questi consigli potrà aiutarvi a diminuire questo problema. Tuttavia, nei casi più gravi è necessario un intervento chirurgico. Grazie per la visione!